A pochissime ore della pensione, il primo cittadino di Medole, Mauro Morandi, è pronto a puntare tutto sulle opere pubbliche del proprio paese. Il programma triennale vedrà infatti la realizzazione di una rotatoria tra via Pesenti, via Fontana e strada annunciata e la nascita di un nuovo centro polivalente presso il centro sportivo. Ma altri tre saranno i maxiprogetti dell'amministrazione comunale, che lo stesso sindaco ci ha spiegato. Abbiamo deciso di dare delle priorità nel nostro programma triennale e partiamo dalla riqualificazione e l'adeguamento sismico per quanto riguarda la scuola primaria. Efficientamento energetico sarà nei nostri progetti principali con un finanziamento di 1.350.000 euro. Fatto questo, andremo ad eseguire anche un discorso di pista ciclabile nel tratto che va in via Matteotti, direzione Crocevia. Siamo riusciti con la regione ad avere su un progetto totale di 220.000 euro il discorso di un 32% circa finanziato con fondi regionali e la remianenza un mutuo a cui accederemo per un restante 150.000 euro. Ricordiamoci il terzo punto fondamentale, tematica ambientale, realizzazione e finalizzazione della piazzola ecologica su cui i progetti del Comune e dell'amministrazione medolese contano di essere in futuro un fiore all'occhiello di esempio rispetto alla precedente amministrazione.